Salve a tutti lettori e lettrici di Star Wars Chiebre Comics, bentornati in un nuovo video qui sul nostro canale YouTube. Io sono Giorgio, sono il fondatore e caporedattore di Star Wars Chiebre Comics e in questo video oggi voglio andare a raccontarvi quali sono stati tutti gli annunci per quanto riguarda i romanzi e i fumetti che verranno pubblicati da Panini Comics nel corso del 2023, dell'anno prossimo. Panini ha tenuto infatti una conferenza di annunci a Lucca Comics and Games 2022, l'ha tenuta domenica 30 ottobre, noi abbiamo coperto tutta la conferenza sul nostro canale Telegram con un live blogging e trovate ovviamente in descrizione il link al nostro canale e anche alla nostra chat se avete piacere a unirvi, ma in questo video vi voglio raccontare di nuovo da capo un po' tutto se appunto non avete seguito i nostri articoli o il nostro live blog per raccontarvi un po' che cosa ci aspetta per quanto riguarda i romanzi, i fumetti, insomma il lato cartaceo della forza per l'anno prossimo. Prima di iniziare come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a questo video, lasciare un commento e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, magari attivando anche la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un contenuto qui su YouTube. In questo video seguirò l'andamento del panel stesso di Panini e quindi partiamo subito con un atteso rilancio cioè quello dell'Alta Repubblica, in particolare per quanto riguarda lo spillato a fumetti, il mensile quindi Alta Repubblica, questo riceverà un nuovo numero 1 che uscirà il 23 di aprile del 2023 che tra l'altro è il mio mastico. Il primo numero sarà quindi il rilancio della nuova serie a fumetti scritta come sempre da Cavanscott e disegnata da Ario Anindito ma anche con l'aggiunta delle matite del nostro italianissimo Andrea Broccardo. La serie Alta Repubblica che verrà chiamata 2022 diciamo per riferirci alla data di uscita statunitense visto che è iniziata proprio il mese di ottobre del 2022 negli Stati Uniti fa parte della fase 2 dell'Alta Repubblica quindi ci spostiamo 150 anni prima rispetto alla serie che si è appena conclusa e rispetto a tutta la sequenza di romanzi che avete già potuto apprezzare nel 2021 e nel 2022. Sempre per quanto riguarda i fumetti canonici andiamo a parlare della cosiddetta trilogia di Kira, cioè quel trittico di opere a fumetti scritte da Charles Soule che si concentra sul personaggio originariamente interpretato da Emilia Clarke in solo a Star Wars Story. La prima parte di questa trilogia cioè la guerra dei cacciatori d'Italia è già uscita in spillato durante i medi estivi essenzialmente nella primavera estate del 2022. Questa guerra dei cacciatori d'Italia riceverà un volume cartonato che quindi sarà una ristampa degli spillati nell'agosto del 2023. La seconda parte invece della trilogia di Kira, cioè la miniserie a fumetti Regno Cremisi, riceverà un volume cartonato che uscirà nel febbraio del 2023. Quindi per chi segue solo i cartonati acquistate ovviamente Regno Cremisi che esce a febbraio 2023 ma ricordatevi che in realtà dovete ancora leggere la guerra dei cacciatori d'Italia che invece esce ad agosto, mi raccomando, altrimenti recuperate gli spillati dedicati appunto a War of the Bounty Hunters di cui abbiamo realizzato anche un video qui sul canale che trovate qui in sovrimpressione. L'ultimo capitolo della trilogia di Kira, cioè Hidden Empire, che sta proprio iniziando ad uscire adesso negli Stati Uniti, arriverà in Italia direttamente in volume proprio come Regno Cremisi nel settembre del 2023. Tante novità anche per le altre miniserie a fumetti sempre canoniche. Abbiamo in particolare la miniserie Obi-Wan che è appunto dedicata all'omonimo personaggio ed è ambientata praticamente poco prima di una nuova speranza, c'è il vecchio Ben Kenobi che riflette un po' su tutta la sua vita e ogni numero è dedicato a un flashback di alcuni momenti salienti per cui esploriamo un po' tutta la vita di Obi-Wan, è un'opera uscita più o meno in contemporanea con la serie tv Obi-Wan Kenobi su Disney+, questa uscirà direttamente in volume cartonato nel marzo del 2023. Durante aprile 2023, quindi il mese successivo, invece uscirà un primo volume della serie Han Solo e Chewbecka che appunto uscirà direttamente in volume, saranno due volumi, appunto sarà il primo arco narrativo di due. A febbraio 2023, quindi invece prima, uscirà il volume cartonato, il primo volume dell'adattamento a fumetti della serie tv The Mandalorian. Questo primo volume coprirà la prima metà della stagione 1. Qualche notizia anche lato omnibus canonici, l'omnibus di Dottore Safra che era stato annunciato, qualcuno di voi se lo ricorderà, a Lucca Comics and Games 2021 e che sarebbe dovuto uscire prima ottobre 2022, poi è stato rimandato a dicembre, ma in realtà viene confermato per aprile 2023. Mentre la graditissima sorpresa di questo Luca Comics è l'atteso omnibus di Tales from Vader's Castle. L'omnibus dovrebbe contenere tutte le serie della IDW relative appunto al castello di Darth Vader, tutte scritte da Cavanscott e disegnate da un Francesco Frankaville davvero in stato di grazia. L'omnibus, che non ha analoghi diciamo negli Stati Uniti, dovrebbe contenere tutte le opere relative a Vader's Castle. La prima miniserie cioè Tales from Vader's Castle di 5 numeri, la seconda miniserie sempre di 5 numeri cioè Return to Vader's Castle, poi il teso diciamo One Shot Shadow of Vader's Castle che non è mai stato repubblicato in nessuna raccolta negli Stati Uniti e poi la terza e ultima miniserie cioè Ghost of Vader's Castle. Quindi dovrebbero essere 16 numeri, un bello omnibus speriamo anche in un formato appunto da omnibus e non quelli analoghi agli Star Wars Avengers quindi piccolini ma dovremmo poter apprezzare queste grandi tavole molto molto belle di Francesco Frankaville. Questa è davvero un'opera particolare in cui Cavanscott va a riprendere un po' tutte delle tematiche, delle ambientazioni horror, quindi c'è una certa cornice narrativa che appunto è quella dei servi dell'oscuro signore Darth Vader nel castello di Mustafar che raccontano varie storie dell'orrore a qualche sfortunato e malcapitato personaggio che arriva appunto ospite di questo castello. Si apre poi per quanto riguarda i fumetti canonici una nuova linea editoriale che si chiamerà Star Wars First sembrerebbe. È una nuova linea di prodotti brossurati con un formato abbastanza ridotto cioè 15x23 cm quindi considerate questi sono più o meno 20 saranno diciamo dei formati tascabili in cui saranno presenti delle storie singole dedicate a un unico personaggio. Basta paginazione, prezzo accessibile dovrebbe essere 9,90€. Sarà quindi per Panini il regalo perfetto per chi vuole iniziare a leggere Star Wars ma non sa appunto da dove iniziare e voi dovreste dire dovete proprio iniziare seguendo Star Wars Libre Comics e sarà quindi un libricino piccolino contenuto e si inizia con un primo volume dedicato a Darth Vader che uscirà ad aprile mentre invece un volume dedicato a Luke Skywalker arriverà ad ottobre 2023. Questi volumi non sono quindi qualcosa mirato a noi appassionati, hardcore, collezionisti eccetera eccetera ma chi vuole un po' iniziare il suo percorso nel lato cartaccio della forza. Rimaniamo sul canonico e passiamo invece ai romanzi. Il primo romanzo canonico che verrà pubblicato nel 2023 è Path of the Seat cioè il primo romanzo dell'Alta Repubblica della fase 2 dell'Alta Repubblica che abbiamo già recensito sul sito che uscirà appunto a febbraio del 2023. Path of the Seat è la prima opera che inaugura proprio la fase 2 dell'Alta Repubblica ed è un romanzo must read anche perché dà un sacco di informazioni in più sui senza nome e sulla Path of the Open End insomma da qualche... inizia a collegare un po' i puntini lasciati in sospeso dall'Occhio della Tempesta cioè la miniserie di Charles Soul dedicata a Mark Young Rock. Path of the Seat è un romanzo young adult ma comunque è una lettura fondamentale per quanto riguarda la macro trama complessiva. Il secondo romanzo della fase 2 dell'Alta Repubblica arriverà invece in Italia a maggio 2023. Sarà il titolo Middle Grade Quest for the Hidden City cioè appunto il titolo per giovani lettori mentre il mese successivo cioè a giugno 2023 uscirà Convergence di Zoraida Cordova. Marzo invece vedrà un attimo di iato tra l'Alta Repubblica perché andremo ad esplorare la luna di miele tra Han e Leia con La Principessa e la Canaglia di Beth Travis di cui anche questo trovate la recensione sul sito. Passiamo invece a Legends e iniziamo con i romanzi cioè con la collana ai grandi romanzi di Legends che continua la sua pubblicazione anche nel 2023. Il prossimo titolo sarà Darth Bane la regola dei due il secondo volume della trilogia di Darth Bane che uscirà a febbraio 2023 mentre invece poi avremo un grandissimo ritorno cioè la nuova ristampa delle erede dell'impero con le bellissime nuove illustrazioni. L'erede dell'impero appunto primo volume della trilogia di Throne quella classica Legends di Timothy Zahn di cui se non sbaglio non è stata detta una data mentre per quanto riguarda i fumetti Legends continua la collana Epic che sta ristampando o stampando degli inediti lo vediamo tra poco in questo bellissimo formato cartonato. La trilogia dell'Alba degli Jedi ormai esaurita introvabile soprattutto i volumi 2 e 3 arriverà in formato Epic in un unico singolo volume cartonato non vedo davvero l'ora io ce li ho tutti nella prima edizione quindi non la ricomprerò ma sono sicuro che tanti 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 fan come voi aspettano la ristampa di questa serie a fumetti. Questo Epic dedicato all'Alba degli Jedi arriverà a marzo 2023 qualche mese dopo invece a luglio uscirà un Epic che in realtà è la riproposizione di un omnibus della Marvel della Dark Horse che sarebbe Queenland Boss Jade in Darkness che arriverà appunto a luglio e sarà principalmente composto da materiale inedito. Non vedo l'ora sinceramente sapete quanto io apprezzo e amo il personaggio di Queenland Boss e sono molto contento che le sue storie che sono tra le più classiche dei fumetti di Star Wars diciamo di inizio anni 2000 arrivino finalmente in Italia in un'edizione completa. Bene questo è tutto per gli annunci appunto di questa Luca Comics in Games 2022 poi noi ovviamente continueremo a darvi notizia quando usciranno le varie anteprime o anche quando scoveremo online le prime informazioni sui prossimi titoli saremo sempre i primi a darvi leak, le informazioni, i rumor eccetera eccetera. E continuate ovviamente a seguirci e se siete arrivati fino alla fine di questo video scrivete nei commenti Bodspeety per farmi sapere che avete visto il video fino alla fine e soprattutto un applauso in più a chi capirà proprio perché Bodspeety come citazione diciamo per questo video. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione ovviamente vi invito a seguirci su tutti i nostri canali se già non lo state facendo. Come sempre vi auguro delle buone letture e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao! 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 Ciao!